buonasera a tutti sono luigio naracusa e preferite bentornati e cosa c'è davvero di più di dirlo su non vedo combattol versione japp febbre e subito dopo fin alzata mi hanno bloccato una settimana vedremo di recuperare pressa poco tutto partiamo dove ci siamo lasciati con il rare summon della batch di trunks ovviamente settimana cercheremo di occuparci di tutto quello che manca quindi al posto di fare video singoli penso che andrò a fare video con più di un personaggio alla volta così da essere pronto lunedì prossimo alla live sulla versione z che potrebbe essere molto interessante come potrebbe essere un delusione tutto quanto dipende molto da quanta aspettativa abbiamo io non ne ho troppa di aspettativa però vedremo vedremo il pg di cui parliamo oggi è una sorpresa una cosa che nessuno sarebbe mai aspettato è un pg enorme davvero buono l'ho trovato monocopia quindi sono uscito comunque dalla batch con uno dei nuovi pg ne parliamo di goku super saiyan earth cage sic come cavolo volete chiamarlo comunque statistiche 11377 hp 11004 nel 98 attacco 6220 di difesa leader turtle school ci sono rimasto abbastanza perché non ha molto senso logico leader turtle school a mio avviso su questo pg ma vabbè un altro leader turtle school ci può stare a un suo perché io personalmente gli avrei dato oddio in realtà non so neanche cosa gli avrei dato mini leader della categoria di trunks forse non sarebbe stato più di tanto intelligente allora preparatevi perché ora si inizia a volare attacco di difesa più 100% inizio turno ottimo più hp avete più si boosta attacco di difesa fino al massimo 200% stando quindi a full hp a un buon 300% attacco di difesa ottimo ora il pg si dividerà in eventi brevi road ed eventi lunghi rival nelle road cosa fa il nostro caro amichetto il nostro caro amichetto ha 59% di critico 5 chi 59% di damage reduction e 59% di additional special questo perché nei primi 5 turni ha tutta sta roba e poi mi chiedete e poi che altro no tanta roba c'è questo sfonda le road ragazze molto semplicemente parlando da solo sfonda le road tantissima tantissima roba non me lo aspettavo un pg così tanto buono sinceramente penso che pochi in realtà si aspettavano voler summon a questi livelli come dal caricato mi è parso di vedere che carica più di trance fai capire ha la differenza di trance che si svolge prevalentemente non dico unicamente ma poco ci manca sulle corte distanze quindi bisogna comunque stare un attimino attenti tutto quanto ma tutto sommato a mio avviso cioè non è che mi vada a cambiare la vita cioè il ruolo dello gioco il rival ci posso pensare una volta che finiscono i 5 turni perdiamo buona parte dei potenziamenti che ha ma non ma non quelli difensivi o meglio avremo dal sesto turno in poi quando gli HP sono inferiore al 59% una difesa più 59 il che calcolate che vuol dire circa essere sui 120-220 fate circa 270-280% di difesa totale quindi abbiamo una perdita più bassa e successivamente riguadagniamo la damage reduction del 51% che poi lì invece ottima sempre lo meglio averla che non averla ragazzi tanta roba ragazzi tanta 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 roba grandi non morirci cioè è un PG che sa il fatto suo che abbiate tanti HP che siete all'inizio o siete alla fine con pochi è un PG che vi dà molta sicurezza negli eventi breve offensiva soprattutto perché ad Ability Free funziona già bene magari non vedete i numeroni perché ad Ability 1 voi gli boostate davvero tanto le stats però Critico Additional lo vedete benissimo già da Ability Free e anche la difesa permettendo magari di potenziare quei team in cui avete qualcosa non ancora normalmente a posto Links and Willow Raids, Lineage, Pro-Pro-Fu-Battle, Stain Fighters, Super-Signal, Shocker, Spirit-Field Battle categorie Pure Seagal ragazzi in Pure Seagal questo PG lo potete vedere circa come un possibile sostituto escludendo lo stun quindi risulta comunque meglio Veggela 3-St-R ma un buono sostituto di Veggela 3-St-R per quanto riguarda la parte difensiva e massimizzare il danno piuttosto che lo stun più lo giocate quando volete shottare le vecchie road quindi una persona che ha iniziato con Trunks e pesca lui e pulla lui può davvero shottare alcune road Goku Family anche là funziona da dio necessita per essere davvero buono almeno l'Ability 1 in basso-destra ragazzi a mio avviso senza senza qualcosina perde ma perché la perde? la perde prevalentemente perché c'è bisogno di un pochino più di stats per essere davvero completamente buono ma ciò nonostante non fa schifo assolutamente Super Saiyan in realtà in tutti quanti i team funzionare lo stesso identico modo ovvero avete il PG lui fa male lo usate in road il rival può essere carino ma prevalentemente difensivamente non lo andate a giocare più di tanto offensivo questo perché perché comunque lo scusa perderà un pochino della sua offesa totale il che ha i suoi svantaggi molto semplicemente il che ha i suoi svantaggi ma ciò nonostante vi ripeto il PG funzionerà da dio il PG vi darà delle sicurezze il PG funzionerà come deve funzionare semplicemente se non avete se non avete il PG pronto ad ability potrebbe potreste aver bisogno magari non solo il contrasto di lui ma più sul team ma solo funziona benissimo davvero potete giocare ovunque tra l'altro e anche accelerete il battle cosa molto molto bella perché gioca nella categoria anche di Tegoku mi piace tanto felice di averlo pullato ora è TRZ però ricordatevi una cosa qua parliamo di Nersammon quindi questo TRZ può essere inferiore può essere inferiore ad alcuni le sottolineo alcuni TRS del dei Dokkan Fest non tanti però offensivamente finora poco ho detto come va detta tutto questo voi cosa ne pensate se avete pullato il PG lo avete provato come vi sembra noi ci vediamo nei prossimi giorni con l'analisi dei vari free to play per poi passare finalmente aggiungo finalmente all'analisi del nostro caro TRX LRGL che ci divertiamo molto perché hanno fatto un PG buono che può dare più di una soddisfazione quindi io vi ringrazio vi auguro una buona serata alla prossima ragazzi grazie a tutti